Una mano sulla Bibbia e la minaccia di fare ricorso all'esercito per riprendere il controllo delle strade. Al settimo giorno di proteste contro le violenze della polizia innescate dall'uccisione di George Floyd, il presidente Trump ha parlato di atti di terrorismo interno e sollecitato la mobilitazione della Guardia Nazionale. Se sindaci e governatori non saranno in grado di proteggere i cittadini, la sua promessa poco dopo la dispersione con i lacrimogeni di una manifestazione proprio davanti alla Casa Bianca, risolverò rapidamente il problema al posto loro. Oggi ho fortemente raccomandato a ogni governatore del paese di mobilitare la Guardia Nazionale in misura sufficiente a riprendere il controllo delle strade. Sindaci e governatori devono ricorrere a spiegamenti eccezionali di forze dell'ordine fino a che le violenze saranno domate. Sto procedendo proprio ora allo spiegamento di migliaia e migliaia di soldati pesantemente armati, di ulteriore personale militare e delle forze dell'ordine per porre fine alle rivolte, ai saccheggi, agli atti vandalici e a tutti gli attacchi alla proprietà privata. Qui non parliamo di proteste pacifiche, ma di terrorismo interno. Distruggere vite innocenti e versare sangue innocente è un'offesa all'umanità e un crimine contro Dio. L'America ha bisogno di costruire, non di distruggere, di cooperare, non di spaccarsi, di sicurezza, non di anarchia. Già oltre 20 gli stati americani che hanno risposto all'appello di Trump e mobilitato la Guardia Nazionale, più di una quarantina le città che hanno disposto un coprifuoco notturno.